Mettendo da parte il linguaggio politichese, tanto caro a molti rappresentanti istituzionali, va detto che il processo di decarbonizzazione si complica sempre di più nella realtà brindisina e rischia di provocare gravissimi danni sociali. Per anni il Governo nazionale si è dimenticato di programmare interventi indispensabili per poter traguardare la fase di transizione che deve fare immediatamente seguito a quella della decarbonizzazione. Una serie di investimenti che sarebbe dovuto andare verso il pieno utilizzo delle fonti rinnovabili pur mettendo al sicuro il Paese sul piano del fabbisogno energetico. Il tutto tradotto significa fare ricorso al gas in attesa di riempire mare e terra di pannelli fotovoltaici e di tori eoliche. Il tutto in aggiunta anche ad attività industriali promosse per evitare gravi conseguenze occupazionali per i territori interessati dalla chiusura delle centrali a carbone. Poi finalmente su sollecitazione dei parlamentari Dattis e Battilocchio il Ministero dei Made in Italy ha finalmente insediato un tavolo per Brindisi e Civitavecchia. Si è sperato l'impossibile per poi ritrovarsi con un cumulo di belle parole e con nessuna idea su cosa fare in queste due città. A Brindisi in particolare è stato detto di tornare a Roma solo quando si saprà cosa chiedere. Da qui l'incarico conferito al primo cittadino di convocare un tavolo locale. Circostanza quest'ultima preceduta dalla Regione Puglia che con il Presidente Emiliano e con l'assessore Dell'Inoci un tavolo lo ha convocato a Bari ma le conclusioni sono state altrettanto deludenti. In sostanza è stato rivolto un appello all'Enel ad investire a Brindisi ignorando che pochi giorni prima proprio Enel aveva presentato il suo piano industriale in cui non si faceva alcun cenno a investimenti significativi a Brindisi. Nel frattempo il Sindaco Marchionna giustamente sottolinea che se l'Enel va via deve prima smontare la centrale di Cerano, bonificare le aree e rinaturalizzarle per poi restituirle al territorio per altri usi. Insomma la triste considerazione è che al di là delle minacce velate e di promesse mai fatte adesso tutti aspettano tutti. E nel frattempo Brindisi muore lentamente in attesa della chiusura della centrale che salvo rinvii non prevedibili in questo momento è prevista per il prossimo anno come ben sanno più di mille addetti dell'indotto che saranno costretti a rinunciare al proprio posto di lavoro.